Sono l'uno e mezzo, guarda che stiamo combinando, vieni a vedere, 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 a l'uno e mezzo di sei, allora capite, ok, lai, vieni a vedere, ok, ciao bitti, ok? Quello, andessamo giùcafone qua, zingala, se scrivo su Facebook, sui Tani Maccheroni, all'uno e mezza, all'uno e mezza, non apprezzo, struzzate, mamma mia, struzzate, pietro, ora ma la mangià, adesso vedete come si condisce bene, sale, oh, quanti ci faccio metà la società, sale, come nischia, come nischia?